Sin da giovane sono stato attento alla mia salute, curando massa muscolare e perfino la mia cute. Ma un'altra mia passione ha prevalso sulla cura dell'articolazione del mio polso. Ogni giorno, chiuso in stanza, con la luce spenta, con in mano lo strumento che il mio piacere alimenta. Mi spacco di saghe, saghe video ludiche, tutto il giorno con joystick tra le mani, gioco pure la notte fino all'indomani. Non ho mai avuto interesse nei porno, per me è meglio giocare ai videogiochi tutto il giorno. Chi se ne frega di vedere sono cui e tette, ma avete mai giocato a Final Fantasy VII? Per non parlare della saga di Tomb Raider è più eccitante di un abbonamento a Bradzer. Mi spacco di saghe, saghe video ludiche, tutto il giorno con joystick tra le mani, gioco pure la notte fino all'indomani. Non mi interessa la categoria latina, ho, io sono molto più preso a giocare a Gears of War. Se non lo conoscete dovete provare Dead Space, supera di gran lunga ogni cancelled on her face. Mi spacco di saghe, saghe video ludiche, tutto il giorno con joystick tra le mani, gioco pure la notte fino all'indomani. Caro amico ti capisco, ognuno ha le sue beghe, io ad esempio mi spacco di serie, serie televisive, come Gomorra, romanzo criminale. Almeno in questo modo, ai dolci, non mi faccio male. Assassin's Creed, Breaking Bad, Need for Speed, or The Walking Bad. Devil Ne Cry, Secretly Between Beaks, oppure per Cry. E questo doesn't speak, I don't want to wait. Quante cazzate che vi ho detto, la mia unica vera passione, è chiudermi in camera da letto e dedicarmi alla masturbazione. Sì, sì, la masturbazione. Non tutti i salici piangono, no, ce n'è uno giovane che è felice.